E' riuscita con un nuovo video ragazzi, io sono Cri e noi siamo tornati su EFootball2024 per andare a fare l'evento National Teams con il Portogallo e vi spiego anche il perché, perché quest'oggi siamo qui per provare un giocatore un giocatore che avrei potuto provare in divisione, ma che preferisco provare qui perché mi porta a meno tempo faccio l'evento insieme a voi e sono anche un po' più tranquillo stiamo parlando di Ruben Neves che non avevo poi più provato perché non ho avuto più l'occasione, poi sono usciti tutti i pacchetti ho shoppato Griezmann, Deschamps, cioè il pacchettino della Francia e quindi ce lo andiamo a provare oggi ragazzi, queste sono le sue statistiche allora lui non è un mediano, lo usiamo un mediano perché almeno volevo vedere il 100 in squadra perché puoi maxarlo da centrocampista centrale e le sue abilità sono da centrocampista centrale quindi non dovremmo usarlo qui però con la build da centrocampista centrale l'avremmo visto 97, 98, forse neanche di overall in squadra era veramente brutto, cioè a livello di Bruno Fernandes regalato se così vogliamo metterla quindi aveva veramente poco poco senso Ruben Neves che andiamo a provare, ricordiamo, per l'abilità l'abilità che è? Dov'è che è? Passaggi cruciali eccola qua, si attiva al secondo tempo se sei in svantaggio o stai pareggiando e migliora i passaggi, così c'è scritto quindi speriamo poi di non ritrovarci in svantaggio ovviamente al secondo tempo nel caso in cui dovessimo essere in vantaggio è un giocatore come tutti gli altri questa è proprio la pecca del giocatore, ecco perché l'hanno regalato perché comunque l'abilità sì è carina ma se sei in svantaggio al secondo tempo non dovresti contare su un Ruben Neves ok? C'è gente veramente molto più forte c'è gente che ti cambia la partita anche al secondo tempo quindi secondo me avrebbe senso da provare o da tenere in panchina per chi ha una squadra free to play e lo mette a secondo tempo con riserva di lusso se sta perdendo in quel caso lì si attiva l'abilità lì si attiva pure riserva di lusso secondo me può dire la sua può dire la sua adesso vediamo, poi magari mi fa due o tre partitoni assurdi vediamo un po' primo avversario di quest'oggi ovviamente incontriamo la Francia allora Frecce ok, le ha completamente giuro Ronaldo completamente sur Ben Neves non è messo male andiamo con Joe Felix questa è la squadra del nostro avversario praticamente la Francia free to play affrontiamo il primo avversario di quest'oggi qui Bernardo Silva sulla fascia volevo darla direttamente a Joe Felix vabbè, siamo passati da Ronaldo bellissima azione ancora Joe Felix si accentra, la mette morbida in mezzo per Ronaldo bellissima azione Joe Felix qui si accentra si gira Joe Felix e poi ci aveva provato Ruben Neves peccato, peccato per la deviazione calcio ad angolo risponda in mezzo di Ronaldo non ci arriva nessuno poi c'è Figo che la prova a giro un altro salvataggio sulla linea qui bella azione Bruno Fernandes di prima mamma mia cosa ha preso cosa ha preso e arriva così ragazzi il primo tiro del nostro avversario primo gol si fa in culare a sangue Ruben Diaz che comunque è un 100 ha delle statistiche difensive insuperabili perché ha quasi tutti i 99 lui niente si fa in finocchiare da un dembele base finisce il primo tempo 1-0 ragazzi inizia sempre 1-0 per il nostro avversario l'unica nota se proprio bisogna trovare una nota positiva l'unica nota positiva è che almeno adesso abbiamo attivo abbiamo attivo non ci posso credere io non ci posso credere io non ho io non ho parole io non ho parole basta non parlo più stavo dicendo che l'unica nota positiva è che almeno adesso c'è passaggi cruciali di Ruben Neves attivo visto che siamo in svantaggio al secondo tempo però va bene ah ok ok tutto chiaro o meglio chiaro che sia scriptata a merda non è chiaro un cazzo di quello che è appena successo davanti al portiere ma va bene così ci si riprova non ci arrendiamo Ruben Neves vediamo un po' sto passaggio cruciale vediamo che mi combina bel passaggio cruciale veramente bel passaggio cruciale mi ha svoltato veramente l'azione tanto che mi ha fatto perdere la palla attenzione qui passaggio avanti ci riprova un'altra volta Ronaldo non può provarci Ronaldo non può provarci ritorno in mezzo ci riprova niente da fare neanche Bernardo Silva con la porta spalancata riesce a segnare ragazzi e purtroppo deve andare così quando deve andare così deve andare così Ruben Neves vediamo sto passaggio illuminante va sto passaggio cruciale che mi combina che mi combina al passaggio un cazzo qui la recupero un'altra volta Ronaldo ci riprovo ancora con lui perché è l'unico è l'unico ragazzi è l'unico che può fare qualcosa ed infatti ed infatti fa l'1-1 Cristiano Ronaldo sempre lui al 69esimo allora c'è da capire lì quel passaggio si è passato per via dell'abilità di Ruben Neves comunque quel filtrante o perché il gioco è una merda e il difensore è la lisciata è molto più probabile che sia la seconda opzione che la prima qua qua ah no non c'entra niente il passaggio ragazzi c'entra niente è lui che neanche il gioco è lui che è andato in scivolata dalla parte sbagliata ok colpa dell'avversario passaggio passaggio cruciale ancora non non ha dato i suoi frutti evidentemente e non li darà più perché adesso non si no beh stiamo pareggiando quindi in teoria è ancora attiva Joe Felix ha ancora un po' di attenzione attenzione Joe Felix in mezzo per Ronaldo non ci posso credere ragazzi ho fatto qualche cambio ovviamente non ho tolto Ruben Neves non ho tolto Ronaldo perché sono punto su loro due a questo punto punto su loro due qui Ronaldo si gira tiene la palla non la può non la può tenere non la può tenere abbiamo capito dai Ruben per favore per favore per favore per favore non ci posso credere come vale anche il cross ma vaffanculo bellissimo il passaggio qui sulla fascia ci prova sto pipponazzo centoquindicesimo 2 a 1 finalmente si riesce a ribaltare il passaggio cruciale non l'ha fatto Ruben Neves l'ha fatto CR7 qui Ruben Neves vediamo il passaggio cruciale mamma mia che passaggio signori ovviamente si scherza è un passaggio come tutti gli altri guarda qui guarda che azione 3 a 1 chiusa la partita arriva a segnare a di chi cazzo è questo Paoligno signori Paoligno azione completamente fatta senza senza il bisogno o l'aiuto del passaggio cruciale di Ruben Neves che evidentemente se dal quarantacinquesimo al centosedicesimo non si è visto mi pare mi puzza un po' mi puzza un po' l'abilità mi puzza un po' e finisce così ragazzi 3 a 1 per noi devo dire alla fine la meritavamo sotto ogni punto di vista ha fatto un tiro totale il nostro avversario veramente assurdo ci portiamo a casa questa vittoria queste 50 monete che comunque col Portogallo secondo me valgono il doppio e direi di andare a provarci Ruben Neves anche nella seconda partita nella prima però devo dire non mi è sembrato non mi è sembrato tutto sto granché altro Portogallo qui incontrato probabilmente tutto base perché fa 2600 di forza complessiva vediamo un po' a frecce come siamo messi cioè lui sfigo tutto su leao ancora una volta giù che ci vuoi fare niente andiamo ancora con Joe Felix andiamo ancora così questa è la squadra del nostro avversario completamente base tra quelli praticamente regalati con l'allenatore base questo probabilmente ha iniziato a giocare l'altro ieri vediamo come va inizia così la prima no la seconda è la seconda la seconda partita di quest'oggi no mi sono messo io la maglietta sbagliata lo sapevo vabbè volevo mettere a lui la maglietta questa qua di football invece me la sono messa io qui si guadagna un fallo Ronaldo che però resiste cioè vedete perché io dico poi che il gioco è una merda ho provato ho già 4-5 tiri quasi imparabile con Ronaldo le ha prese tutte tutte alla fine prova un tiro con Bruno Fernandes dalla posizione più improbabile deviazione gol del cazzo 1-0 alla fine arriva il gol anche lui CR7 al 22esimo secondo me è già chiusa ragazzi è veramente mamma mia signori azione guida da insegnare nelle scuole di calcio però vabbè siamo contro veramente un avversario di bassissimo livello e non lo prendiamo neanche in considerazione arriva così il quit del nostro avversario abbiamo vinto anche la seconda partita adesso non c'ho voglia di andare a farmi la terza sinceramente quindi ci prendiamo questo programmabilità e vi devo dire ragazzi Ruben Neves non è malissimo cioè non sia mai non è una merda però mi aspettavo molto di più sinceramente è uno showtime adesso non vorrei dire cazzate ma non è mai uscito in nessun pacchetto l'hanno messo soltanto in questo quindi è uno showtime fatto appositamente per i free to play e di fatti non è a livello minimamente degli altri showtime l'abilità è passaggi cruciali le statistiche non sono mali ma non ha neanche un'abilità di difesa quindi devi praticamente buildarlo in un altro modo è centrocampista poi non ti fa neanche 100 è uno stile strano tra le linee poi ce ne sono tantissimi anche free to play più forti di lui ragazzi è veramente veramente strano come giocatore anche l'abilità si attiva solo se sei in svantaggio è secondo tempo però poi non si sa bene cosa faccia perché l'abbiamo provata io non ho notato differenze sinceramente non ho notato differenze quindi non lo so ragazzi non mi convince ce ne faremo una ragione spero che il video vi sia piaciuto lasciate like condividete iscrivetevi al canale e noi ci rivedremo in un prossimo video ciao a tutti